Freschi freschi, abbiamo visto il film ieri sera. Per me è un film molto mediocre. Considerando che noi i film dei supereroi li vediamo tutti, Marvel, DC, non DC, quelli italiani e quelli non italiani, li vediamo tutti. Beh sì, anche tu ce ne sono due di italiani comunque. Vabbè, in ogni caso. Leggiamo anche i fumetti, quindi siamo abbastanza esperti in materia. Poi potete giudicare di conseguenza. Se ci pensi è la prima volta che fanno scontrare due titani, due supereroi grossi. Perché l'unica volta in cui abbiamo visto una cosa del genere è stata Hulk contro Iron Man. Ed è stato un po' diverso. Era solo un minuto di combattimento. Qui tendenzialmente devono girare tutto il film basandosi su questo grande scontro. Infatti quello che stavo dicendo è che è un film semplice. Il problema è che hanno tradito le aspettative delle persone. Perché quando vuoi guardare al cinema Batman contro Superman, devi fare molto di più la scena lì di nuovo di Batman, della morte dei suoi genitori. Quello già è un errore gravissimo per quanto mi riguarda. Perché nessuno vuole vederlo. Hanno ripetuto persino due volte. Hanno trovato quella scena. Come dire, gli ingrandimenti della faccia dei genitori morti. Lui che urla. Sarebbe bastato che far vedere la scena solo la seconda volta. E non all'inizio del film, a vedere di nuovo la genesi di Batman, se vogliamo. Esatto. E il costume da gatto beso gigante. Sì, il costume a volte andava bene. Con le zeppe, tra l'altro, nella versione finale contro Superman. Sì, con le zeppe non aveva senso. Perché sa che senso avere zavorra ulteriore? Che cosa? Si deve proteggere la pianta dai piedi dai pugni di Superman. Lois Lane non serve a niente. Fanno perdere un sacco di... Quante volte viene salvata quella donna? In questi due film su Superman, in realtà, quante volte viene salvata? Che palle. Che personaggio irrilevante. Indaga tutto il tempo su questo proiettile del cavolo. E alla fine non serve poi così tanto. Non serve a niente. Perché tipo... No. Eh, lui... Lex Luthor è cattivo. Fa i proiettili. E tipo... Ah, ha fatto Doomsday. Potrebbe scomparire la Terra. Potrebbe essere cattivo. Forse che spari alle persone... Grazie Lois per questo invidio. La cosa più grave che può fare. Allora, parliamo di Lex Luthor. Allora, io sono rimasta un po' perplessa per quella scena in cui presentavano Lex Luthor, insomma, no? Come il classico genio precoce, ok? Quindi molto giovane. Deve parlare in questa sala piena di gente importante. E gli fanno fare una classica apparizione da pazzo, ma senza fargli mettere in croce due parole intelligenti, una dopo l'altra, che dice, ok, sarà pazzo, ma sta dicendo delle cose wow. Come ti dicevo, secondo me Lex non fa la parte del pazzo, ma solo del figlio di papà cresciuto male che si prendeva le botte, ma non è tipo totalmente svitato, semplicemente più un cattivo assetato di potere che un cattivo che fa le cose a caso, tipo Joker, no? Un Joker X che lo fa solo per la voglia di distruggere. E che l'interpretazione sua dell'attore non era così ottima. Ma insomma è stato bravo a recitare, solo che gli hanno scritto il personaggio così, così. Persino la scena finale dove c'è lui da solo, dietro le sbarre, che lì dico, oh, è il tuo momento, fatti vedere per tutto quello che sei, nel senso che è in quel momento che lui diventa Lex Luthor. Proprio quella scena lì, è una scena talmente generica, anche con una recitazione magistrale non avrebbe mai potuto ribaltare quella scena secondo me, perché è la solita scena, chiuso in prigione, che deve fare il pazzo, una stanza bianca, con la luce frontale, con la sua faccia così. Ovvio che ci sono attori più bravi, non sto dicendo che lui sia stato eccezionale, però è stato scritto coi piedi. Dico solo che è stato bravo, ma la trama non l'ha aiutato per niente, perché quella scena lì già solo, in generale, della prigione dove Batman va a minacciarlo, non mi ha detto niente, quindi per Redeemerla ci voleva veramente un maestro. Questa cosa che, tra l'altro, signore per farle risparmiare tempo sul film ho già trovato la madre di Superman. Perfetto, grazie Alfredo. Quando gli deve chiedere aiuto basterebbe dirgli semplicemente... Aiuto! Aiuto! Aiuto con la bandiera bianca. Si fa sparare in faccia e si picchia... Anzi no, prima picchia Batman, lo pesta, tipo con il tempo che passa che sua madre potrebbe morire. Sarebbe bastato non reagire semplicemente, perché Batman è iniziato comunque a picchiarlo, ma dal momento in cui vedi Superman che non reagisce, tu da buono non è che continui, no? Già, infatti, essendo lui appunto, cosa tipo... Aiutami! Aiutami! Ti faccio... Che Batman già ridotto a poltiglia ormai. Già. Questa bella donna che viene presentata sempre in abiti super eleganti, super raffinata e poi... Perché non c'è... Tu non hai mai conosciuto una donna come me? Come se fosse una Catwoman che in realtà è Wonder Woman. Sì, esattamente come compare Catwoman nel Batman. Cioè, nel senso che lui che... lei che sottrae... Esatto. Qualcosa... cioè, si sono un po' confusi, tipo che Lex Luthor è Joker e Wonder Woman è Catwoman che ruba le cose a Batman. La fanno apparire, le fanno fare qualche posa da zoccoletta e... cioè, non si vede un combattimento e figo con lei dentro. Cioè, si vede lei con la corda, lei con la spada, lei con lo scudo... Quella volta... Lei era l'unica che poteva prendere quella fottuta lancia senza avere ripercussioni, senza essere danneggiata e uccidere il mostro, visto che riusciva anche a tenere testa. Invece no. Lasciamolo fare a Superman che... Che è indebolito e che comunque... Che è indebolito e patisce. Siamo da... le scene di combattimento non è che fossero male, ma secondo me i limiti del montaggio si vedevano proprio lì. Spesso non si capiva cosa stesse succedendo. Io non mi sono goduta per niente lo scontro tra Batman e Superman, ad esempio. Cioè, ho visto Nuvole di Gas, lui che faceva volteggiare Superman, Batman che faceva volteggiare Superman, e poi cos'altro ti sei visto? Qualche scazzottata? Hanno dovuto ripiegare su questo tipo di combattimento perché a monte hanno fatto una scelta sbagliatissima, secondo me, io speravo che non ci fosse la kriptonite, veramente. Batman è un genio, Batman è un investigatore, Batman è tutto, che debba ricorrere per forza di cose alla kriptonite, quello sì, è abbastanza noioso. Come hai detto tu, è come mamma ha perso l'aereo, lui che si prepara con tutti i trucchetti. Quando Batman è pronto e sta per uccidere Superman, come dire, sembra una scena sadomaso. Batman sta riempiendo di mazzate Superman da 20 minuti senza che Superman possa fare quasi niente. Qual è la parola, la safe word, la parola sicura? Cosa Marta? Ma proprio adesso che ti sto per inculare con la mia lancia. C'è esatto. Cosa ho detto? Marta? Ma che cazzo? Anche la mia mamma si chiamava Marta. Avrebbero dovuto sfruttare meglio, secondo me, il fatto che Superman non avesse mai avuto paura. Nel senso che uno come lui, che è invincibile, tecnicamente non ha paura di niente, ok? L'unica cosa di cui può aver paura è che i genitori muoiano, come ha morto il padre già. E Batman, quando lo affronta, gli dice, tu non hai mai avuto paura o qualcosa del genere. Secondo me doveva sfruttare. Io mi aspettavo che quella sostanza verde, in realtà, fosse la tossina di spaventapasseri. Nel senso, quella che fa venire paura alla gente, magari. In teoria, adesso non mi ricordo, però in teoria non può. Però vabbè, mettiamo conto che un lipo, effettivamente sarebbe già stata una cosa più figa. Sarebbe stata più figa. Sarebbe stato più figa, effettivamente. Sfruttava il passato di Batman. Doomsday, come dicevamo, è il solito cattivo grigio con la faccia da Buffy, cioè i vampiri di Buffy. Era un orco del Signore degli Anelli. Vedi, tantissima computer grafica e stona tantissimo, almeno per me. Superman che si rimargina al sole, quindi la faccia che viene completamente ricostruita e sembra preso da un videogioco, praticamente. Molto plasticoso. Una cosa, ad esempio, che potevano lasciare così com'era era la morte di Superman. Ah, ecco, il finale è anche grave. Il finale è molto grave perché ci stava, ci stava che morisse. Fanno vedere che Superman muore, ma ti fanno capire subito che non è morto. Quindi gli ultimi 20 minuti sono totalmente inutili, no? Perché un conto è se, tipo, nel trailer tra un anno ti fanno vedere che c'è il terriccio che si muove e tu capisci qualcosa. Però così, tipo, cosa? Oh no, sono triste per dieci minuti che Batman è morto, ma no, nel prossimo film ci sarà. E che Superman è morto, ma nel prossimo film ci sarà. Così veramente è buttare il film nel cesso. Questa è già una delle cose più gravi in assoluto. Sì, che poi è un po' come la fine del Batman di Nolan. Oh no, Batman è morto! E poi te lo fanno vedere. Per quanto mi abbia fatto veramente stracagare Batman 3, e magari una volta ne parlerò, farò un video apposta, lì, come dire, ci hanno messo di... Cioè, era un significato diverso, nel senso che, ok, Batman non è morto, ma in teoria si è ritirato e ha abbandonato il costume, no? Qui, tipo, Superman è morto, ma non è morto. Ci vediamo al prossimo film. Che cazzo mi rappresenta? Jason Momoa, che appare come Aquaman, ed è un po' trash quell'immagine. Di lui, che sembra ancora uno dei Dothraki, per chi guarda Game of Thrones, sott'acqua con questi tatuaggi, i capelli che fanno così, come una medusina. Allora, non potevano farlo diverso, secondo me. Minchia, se potevano farlo diverso. Dargli un'imponenza e una cattiveria da creatura degli abissi, perché voglio dire... Ma non è cattivo, se è Aquaman. Ma deve far paura come una creatura degli abissi, non deve essere tipo... Ehi, sto facendo il bagno qua sotto, che vuoi tu? No, dai, in fondo al mar, no. Forzano troppo la paracolata degli occhiali, nel senso che c'è il... Eh, quella è l'unica cosa. Il direttore del giornale... Che deve rimanere. Sì, va bene, può anche rimanere tiratissima, però, tipo, il tizio legge il giornale, il caporedattore, Superman muore, apre, gira la pagina e c'è Clark Kent è morto, con gli occhiali... Tipo la stessa faccia... Aspetta, aspetta... Non lo so, è tutto proprio al limite del guardabile. Solo il nome, solo il mito di questi personaggi di per sé che fa... Andare avanti il film. Andare avanti il film. In conclusione, questo film... Non ha soddisfatto nessuno dei due. No, non ha soddisfatto le aspettative. Però non è così tremendo come tutti dicono. Va bene, ci vediamo alla prossima recensione, allora. Ciao, presto! Ma non gli fa un cazzo l'esplosione in mezzo al tribunale, fiamme ovunque. Però al freddo mettiamo il cappellino. Sì, il cappello su Superman non c'è motivo.